Un kamikaze si è fatto esplodere a Kabul, nella Green Zone di Akbar Khan, il quartiere diplomatico sede di molte ambasciate, tra cui quella canadesa, australiana e americana. Fonte locali forniscono versioni contrastanti sul luogo della detonazione. L'attentato rivendicato dall'ISIS ha provocato la morte di otto persone e diversi feriti. L'attacco è avvenuto nella rush hour di martedì sera nel momento della chiusura di uffici e attività commerciali. L'esplosione si è verificata nel momento in cui nella capitale sono state rafforzate le misure di sicurezza dopo una serie di attentati, tra cui quello davanti alla masciata tedesca lo scorso maggio e l'ultimo ad una moschea sciita che ha ucciso più di 50 persone.